E ben ragazzi siamo tornati su Inazuma in Raven Go, Crono Stones, tuona cosa già ragazzi siamo tornati per il video su come ottenere tutte le 100 foto del gioco Per questo video chiedo un like ragazzi perchè oggi faremo tutte le foto Partirei di partire subito perchè questo video sarà un pochino lungo quindi devi iniziare subito con la prima che è questa Monumento Motivante Perfetto, per il prossimo bisogna andare a, sempre a Remunirai sbagliato, bisogna andare quassù e poi a destra qua Perchè ci sono le palestre e poi dentro il campo di atletica dobbiamo scattare la foto a questo A Siccella del Santinato Poi non sfidare questo Aspettate che abbandono Poi andare quassù e fare la foto a questo Ostacoli di riserva Ora Ora Dentro la palestra Dentro la palestra Bisogna fare la foto a Questo qua Canzone scolastica Poi Qua A tabellone Per poi andare al dojo Che è quassù E fare la foto a Basta sfidare Che palle Non mi rompete Stiamo dicendo Per poi andare a fare la foto qua Al gradino di rocce Per poi entrare E fare la foto a E fare la foto a Questo? Sì, questo Caligrafia Guerriere Poi Qua abbiamo finito Bisogna andare al centro sportivo dell'arena Quindi Andiamo al Al centro sportivo Entriamo Bisogna andare Se non ho visto mare Qua Per poi andare Quassù Credo Quassù E prendere Gli armadie Perfetto Prossimo Bisogna andare Sempre Qua Centro sportivo Uscire Andare Qui sotto E andare A prendere Questa foto qua Bandiera Della vittoria Poi Sembra centro sportivo Andiamo Sempre Di qua E di qua No Ho sbagliato Bisogna andare Qua Sì qua E fare la foto Alla porta Porta Da calcetto C'è un'altra foto qua Non credo Quindi Bisogna andare All'edificio Ovest L'edificio Ovest Bisogna andare Alla Remo New York Mi conviene Sì Per poi Passare Di qua Qua c'è No Giusto Giusto Quindi Piana terra Del piano Ovest C'è una cassa La prendiamo Subito C'è una foto La prendiamo Subito Bidoni Verdi Quindi Dentro Al piano Terra Tagliamo Perché C'è una foto Tagliata E Andiamo A prendere Questa foto qua Dessert Della Mesa Perché Poi ce n'è un altro Il primo piano Ok Un altro Primo piano Bisogna andare Di qua E Qua Cosa si dimanda Per poi andare Al primo piano E No Secondo piano Scherzavo Secondo piano E andare A prendere Questo qua Perfetto Ora Stavo dicendo Torniamo alla Demon New Life Andiamo Alla vecchia Sede del club Dove c'è una foto Questa Perché lavagna Non la chiave Ok Edificio Principale Quindi Andiamo Alla L'edificio Principale L'edificio Principale Dove Al primo piano Quindi andiamoci Subitissimamente Andiamo 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 Primo piano E dobbiamo fare La foto Allora 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 Avete La lezione Per poi andare Al secondo piano E fare E fare la foto Alla Mappa Della Giappone Terzo piano Terzo piano Terzo piano Bisogna fare la foto A Poi su Primo piano Primo premium Ora Te trasporto Centro Al centro Non andai su Però Non andai su Direttamente Su Andando su Bisogna andare Perché mi Guardo Scram inferiore E mi Confondo Bisogna andare Ma Ok Bisogna andare qua E Dovamo fare la foto Non mi ricordo la cosa Un dubbio Ho un dubbio scusione A fare la foto Sincero Ho un dubbio scusione A fare la foto E Forse Qua dentro Aspettate Ah si Questo Questo Giusto Merce di valore Poi Andare Pornare dietro Qua dentro Bisogna andare Alla sala giochi La sala giochi Dovrebbe essere Qua dentro No Bisogna andare Alla sala giochi Rega Qua dentro Ok Qua dentro Alla sala giochi Ok Nella sala giochi Dobbiamo fare la foto Nella sala giochi Dobbiamo fare la foto A Questo Vedo già corretrò Uscire Usciamo ancora Torniamo dove eravamo prima Perché c'era una foto anche lì Non mi sono scordato Qua dentro Facciamo una foto A Questo Perfetto Perfetto Usciamo Dobbiamo andare Dobbiamo andare Dobbiamo andare Dobbiamo andare Dobbiamo andare Qua credo Ok Ok si si è giusto Giusto Dobbiamo fare la foto Questa Macchinetta Degni ordini Perfetto Per il prossimo Ancora siamo qua Su Non sfidiamo Dobbiamo fare la foto a questo Pesce Pesce fresco Ora Sal Bisogna scendere Anzi C'è la prima Qua dentro Sbagliato C'è un'altra C'è un'altra Tendaggio Arcano Ora Parco 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 Bisogna andare su Parco 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 Poi ce n'è un'altra Sotto Non mi sono scordato Che è Fammi andare Fammi andare Il razzo Parco 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 Torna a zoom Parco 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 Cartello per turisti Poi Andare a torre Fare la foto Qua In cima Al mondo Torniamo giù Mappo Riverside Stazione Foto Qua Distributore Di biglietti Perfetto Poi Prossimo Bisogna andare sempre riverside e giù nella barca la vedete in basso quella barca qua bisogna farci la foto panfilo panfilo non lo so e qua non ci dovrebbe essere più niente andiamo agli appartamenti windsor agli appartamenti windsor bisogna andare nel parco altalene altalene si per poi entrare dentro qua negli appartamenti e fare la foto subito a questo turni delle pulizie ok poi dobbiamo andare al seconda stanza credo e fare la foto a questo mi poso a rega aspetta ok capito colorato poi bisogna andare in teoria in questa qui acquario bizzarro poi primo piano poi credo che sia l'ultima stanza a destra se non vado errato ci dovrebbe essere questa la chitarra acustica poi sempre al primo piano il primo fatto che sta applicando tutti è incredibile attrezzi sportivi poi devo fare 20 locale sembrava essere un altro primo piano secondo credo eccolo qua si il la cocorita cocorito quello che è poi secondo piano al secondo piano è bella domanda adesso secondo piano chiedo qua no è sbagliato andando c'è questo e dove era ma era giusto era giusto era giusto era giusto era giusto ah eccolo qua ma mi sembrava strano non so perché c'è una strisci c'è anche qualcosa ah non ho la chiave da questa porta ecco perché perfetto non è erpito con questi ora l'isola del giardino imperiale l'isola del giardino imperiale bisogna andare nelle devo andare quassù credo non sono sicuro di questo andando ti dico che questo ma mi sembra strano rifugio del guardiano ok devo andare qua perfetto ok la stessa piccola ma perchè nici madonna mia bisogna andare qua qua per foto sì è qua qua è qua bisogna andare praticamente dov'è ah già scala che scala poi 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 bisogna andare bisogna fare la foto a il munico perfetto ora qua abbiamo fatto andiamo allo stadio cammini imperiale stavolta non ho stato dato prima ma che andiamo adesso usciamo subito bisogna andare subito qua dietro per il parchimetro e poi basta raga solo questo ora subito a okinawa okinawa qua qua e qua sotto poi il campo sulla spiaggia bisogna fare la foto al tiki bar credo si eccolo qua già la taglio poi entrare dentro al surf surfer e fare la foto alle angure e fare la foto alle angure perfetto vediamo questo sono dei amichevoli qua voglio vedere che i amichevoli ci sono vabbè da lei le amichevoli ma non si ne viene anche scarsa va bene usciamo di qua devo andare al mercato perché al mercato c'è questo cos'è cos'è un leone centrale vabbè se lo dice lui se lo dice lui poi devo andare qua su eccolo qua eh souvenir di okinawa perfetto torniamo alla macchia del tempo mandare alla repubblica di tonga 5 4 3 2 1 nell'ospedale l'ospedale primo piano anzi piano terra e ce n'è solo una torniamo in dirla qua imazuma stiti del passato subito subito qua ce n'è una riuscire ce n'è una subitissimamente qua la statua che vedrete quando faremo l'explay di Inazuma che non ha anche nello stemma di Inazuma vecchio stemma poi nella vecchia sede del club vecchia sede del club vecchia sede del club e poi dentro nel calcetto perfetto usciamo andiamo giù vediamo questo palma ok andiamo alla removerde edificio principale andiamo 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 nell'edificio principale ce n'è uno subito qui si questo qua uniforme vintage perfetto ora mappa centro bisogna andare qua dov'è? qua qua il tavolo il tavolo caffè raffinato ok devo andare giù in teoria adesso ok divieta di eccesso ma chi è il tempo? pam sand sand and or sand and or mappa centro città bisogna andare qui cartone indistruttibile ma anche qui overcard ok ok potete tornare al museo del calcio andare su e qua c'è una cesta prendiamo siamo nella zona residenziale o sto borghi e qua c'è una che è una foto oasi del futuro poi no poi museo del calcio devo entrare nell'entrata principale e bella domanda adesso e questo qua incredibile hologramma di una palla come mi dico? ah ok dov'è aver finito qua noi andiamo subitissimamente all'epoca sengonpu oh why nell'epoca oh why bisogna entrare dentro e farà fuori a questo ma c'è il giapponese mappa cubo di carri anche e facciamo la foto a questo il pozzo non posso aprirla vero? non posso aprirla poi poi l'apriremo bisogna andare al tempo deciso non è tempo deciso torniamo giù e dobbiamo andare a prendere questo qua il mulino d'acqua mulino all'acqua poi qua 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 su salate poi andiamo di qui e subito qua ci sono questi vasi qua no i vasi tre vasi e poi bisogna entrare qua dentro e andare a prendere questi ma anche questo qua il kimono di qualità ora qua dentro qua dentro e qua splendido ritratto poi torniamo fuori andiamo di qua che nessuno mi sfidasse spero ok di qua bisogna fare la foto a questo? no questo questo ok pentola fumante usciamo non riuscivo non riuscivo non riuscivo non riuscivo non riuscivo qua dov'è? qua salice solitario ora castello di Nagoya castello di Nagoya bisogna andare qui pino monumentale per poi andare in Francia in Francia nella guerra dei centali nell'epoca di Giovanna d'Arco entriamo subito qua dentro e c'è una foto a questo barilli pesanti poi andate non so dove dove andare qua ok sì sì ho capito dove andare qua dentro qua dentro e poi fare la foto a questo vessillo di guerra per poi andare in questa porta qua e ancora qua e fare la foto a non mi ricordo dai bersagli ora mappa Orléans e questa qua fonte fontana ottagonale ora sempre Orléans di qua di qua però di qua sì di qua giusto bisogna fare la foto a questo per poi finire epoca dei tre regni dove l'epoca dei tre regni è qua per andare nel giardino di Zuge per fare la foto a queste qua giunchi rosa ora sempre al giardino di Zuge questo sì questo gazebo ok qua abbiamo finito andiamo nell'era di ehm cose di cose di riyoma sakamoto riyoma sakamoto riyoma sakamoto riyoma sakamoto riyoma sakamoto riyoma sakamoto ehm dobbiamo andare su su qua per poi fare la foto a questo poi centro città foto alla barca barca fluviale a chiodo ehm poi non mi ricordo bisogna entrare ah no ce l'è qua ce l'è direttamente ce l'è direttamente bandiera insegna multicolore se l'è guardiera multicolore ehm scusatemi oggi sono così ehm dov'è qua oh il gatto c'era un altro manechi nero nero e anche due che c'è da fare altri ok quest'è l'unico quest'è l'unico quest'è l'unico entriamo dentro quest'è l'unico bisogna andare qua lanterna in pietra poi shinsengumi all'entrata della shinsengumi ci dovrebbe essere questo albero qua albero in apura e sempre alla shinsengumi ehm ma che parte ehm insegna favore va bene ma che è il tempo periodo cretaceo bisogna andare su una grande pianura qua giù credo si perfetto e bisogna andare qua paesaggio preistorico ora valere gli animali sì valere gli animali è giusto però devo andare giù ok ok no ho sbagliato dovete andare nella casa di sorra e poi andare due volte in basso le scene e trovate questo posto qua che vi dovrebbe dare questo qua felce venerabile ora salite andate andate dov'è? no non fate così abbandonate se potete o se volete perché se lo volete guarda comunque vedete questo fungo primordiale per poi andare a casa di sorra e fare la foto a questo frutta gigante e questa capsula di salvataggio poi grande pianura per tutto bisogna andare però al nord ok dovete salire da qua dal dinosauro e andare dov'è? qua eccolo qua muso della musauro ora nella valle degli animali usci qui qua io anche qua giù se non è ancora più giù niente mi sfida anche l'uscita ok bisogna andare qua giù e prendere no non questo non questo questo qua o se dinosauro mappa chiaramente abbiamo finito qua che era il peggiore di tutti no non usciamo non usciamo andiamo di qua e c'è l'ultimo chiamelo ok ragazzi ok ragazzi sbagliate per il grosso taglio ma quanto fare un grosso taglio ecco bisogna fare un grosso taglio perché perché si non vi interessa perché comunque finiamo questo video rare 2 c'è camelo dobbiamo andare nel castello di rare 2 quindi entriamoci dentro entriamoci dentro perché dobbiamo fare la foto alla tavola rotonda mobile leggendario poi grimwell a grimwell dobbiamo prendere questo qua che è il kit da taglia legno per poi sempre a grimwell andare qua e fare la foto alle pecore prendiamo anche la cassa perché si vizzeri ottimo vizzeri poi sempre con grimwell entrare qua dentro e fare la foto a questo qua libri magici c'è altro? c'è altro? forse si no non c'è altro posto poi entrare nella casa sopra e fare la foto qua cammino e dovrebbe essere finito qua camelo c'è 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 un'altra cosa però perché nel mondo prato sconfinato ci sono altre foto e non lo spero questo questo non lo spero proprio quindi se non lo avete sbloccato ragazzi per ottenere il porto sconfinato dovete a fine gioco andare al football al stadio cammino imperiale e battere la la e arrivate qua con la pietra quella temporale questa foto qua non so se ci sono altre sincero cioè io adesso proprio l'ho visto perché dovevo vedere un video però non sapevo che c'era un altro qua infatti è solo questo ok per vedere se avete compito tutto basta andare su info dove il record di gioco fotografo direttante capace professionista 100 foto e con conversazione eloquente per i temi quindi 100 temi perfetto abbiamo fatto faremo anche i 100 stemmi 100 divise ci faremo i tesori gli faremo però per ora il video può finire qui spero che sia piaciuto per poi cercare questo prossimo video ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao